E' stato consegnato ieri pomeriggio a Monsignor Michele Fusco, vescovo di Sulmona Valva, da parte di due agenti di polizia, l'olio del Giardino della Memoria di Capaci, offerto alla diocesi tramite il questore dell'Aquila, Enrico De Simone, per essere unito all'olio che sarà consacrato nella messa a Crismale di domani e utilizzato dalla chiesa sulmonese nel corso dell'anno liturgico. Nei presti del luogo della strage di Capaci, spiega Monsignor Fusco, dove persero la vita per mano mafiosa il giudice Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della scorta, oggi c'è un giardino con un albero di ulivo dedicato ad ogni vittima innocente di quel brutale atto. Da quegli ulivi è iniziato un percorso di rinascita curato dalla questura di Palermo e dall'associazione Quarto Savona 15, che ha dato luogo a una piccola produzione di olio che viene inviato a tutte le diocesi italiane per essere consacrato nella Santa Messa a Crismale. Anche noi domani pomeriggio, durante la Santa Messa a Crismale, continua Monsignor Fusco, uniremo al nostro l'olio di Capaci, offrendo un segno quanto mai eloquente per questa Santa Pasqua. Da un luogo di morte giunge l'olio che utilizzeremo per donare la vita di Dio attraverso i sacramenti. È la nostra fede ed è il messaggio che desidero accompagni quanti in questo momento sono nella prova. La Santa Messa a Crismale sarà celebrata domani alle 17.30 nella Basilica Cattedrale di San Panfilo a Sulmona, alla presenza di tutti i sacerdoti, ai quali verranno consegnati gli oli sacri per amministrare i sacramenti nelle parrocchie delle adiocesi.